bentornato goodlier bentornata oggi andiamo a spiegare qualcosa che riguarda la navigazione in particolarmente il passaggio tra vari nodi nello specifico i proxy cos'è un proxy cerchiamo di capirlo con un esempio da bambino è mai giocato a telefono senza fili probabilmente si era un giurassico simil proxy qui una rappresentazione grafica di quel che è attualmente il proxy hai messo in contatto la fonte della notizia con l'utente finale passando tra uno o più noti che in questo caso sono dei server esempio molto banale e forse anche non troppo calzante ma per farti capire con semplicità quello che rappresenta il proxy quando si naviga dal nostro computer facciamo richiesta verso un servizio web e grazie al fornitore di accesso a internet giungono queste nostre richieste al sito che vogliamo consultare in maniera tutto sommato trasparente se invece prima di consultare il sito indirizziamo la nostra navigazione verso degli intermediari che possono essere hardware o software i quali prendono le richieste e la rindirizzano al sito da navigare non fornendo i nostri dati possiamo tutelarci e nascondere il nostro indirizzo ip ecco a cosa serve un proxy scopo è quindi navigare anonimamente nascondendo il proprio indirizzo ip per superare eventuali censure basate proprio sui filtri degli indirizzi ip o dei provider oppure accedere semplicemente a contenuti non possibili in una nazione per limitazione di aree geografiche per poter utilizzare dei proxy hai varie possibilità impiegare dei servizi web tipo siti attraverso cui collegarti per poter navigare tramite il loro server scelta più semplice di tutte perché non devi installare alcun software o configurare alcunché alternativamente puoi installare dei componenti aggiuntivi all'interno del browser che utilizzi oppure installare dei programmi che gestiscono in autonomia le impostazioni ed eventualmente potrai anche scegliere la località simulata di provenienza ancora potrai installare degli script ossia delle stringhe delle istruzioni dei programmi auto configuranti i parametri per la navigazione infine potrai impostare manualmente i dati dei server proxy scegliendo in autonomia tra quelli disponibili sul mercato la tutela e l'affidabilità del servizio però dipendono da chi fornisce appunto tale servizio la privacy intesa come anonimato non è detto che venga garantita dal fornitore dei server o del servizio le opzioni poi messe a disposizione fanno la differenza tra prodotti offerti compresi quelli a pagamento naturalmente la scelta del server proxy dipende dalla tua necessità se devi consultare materiale esclusivo e presenti in una specifica nazione dovrai cercare ovviamente indirizzi p dei server proxy di quella specifica nazione come se tu fisicamente risiedessi in quella nazione se ti necessita navigare con una certa velocità dovrai scegliere naturalmente dei proxy più rapidi nelle risposte se invece ti serve un determinato protocollo per un determinato servizio beh dovrai selezionare naturalmente quei servizi che ti forniscono quel determinato protocollo nella trasmissione hai bisogno invece di un anonimato assoluto beh individua quelli che ti danno la massima tutela in riservatezza gli effetti collaterali immediati sono frequentemente una minor velocità visto l'ulteriore passaggio oppure anche la presenza di pubblicità più o meno invasiva nelle forme gratuite in tali casi accedendo ad esempio a forme a pagamento può essere eliminato questo ritardo e la pubblicità alcuni siti web contrastano l'utilizzo dei server proxy inibendo la possibilità di fluire di quel determinato servizio la lotta eterna del dualismo a questo punto dovrai affilare le armi svuotare la cache ad esempio del browser di precedenti navigazione scegliere un proxy più consono alla navigazione di quei contenuti e navigare la verifica del cambio di indirizzo ip può essere eseguita in maniera molto semplice andando a consultare uno dei siti di rilevamento indirizzi ip del tipo what is my ip eseguendo infatti il controllo del tuo indirizzo ip prima e dopo il cambio tramite l'impiego del proxy potrai verificare che tale servizio funzioni e dove è anche geolocalizzato il nuovo indirizzo ip relativa alla tua navigazione per completezza devi sapere che non tutti i servizi e i protocolli web sono raggiungibili via proxy infatti potessi avere delle difficoltà a collegarsi ad alcuni siti tipo giochi online servizi webcam voip o fire sharing ovviamente tecnologia permettendo perché è un continuo inseguirsi di fruizione dei contenuti e contrasto alla fruizione di questi contenuti il progetto più conosciuto in ambito primacy è quello di tor the onion router in pratica il traffico della tua navigazione viene veicolato attraverso una serie di server quindi non solo un proxy con un ip univoco server volontari che sono sparsi in giro per il mondo con lo scopo di nascondere i dati relativi all'utente iniziale che possono essere l'indirizzo ip la posizione il tipo di navigazione quindi cosa andrà a consultare messaggi e molte altre informazioni in modo da accelare quanto più possibile la fonte della navigazione evitando anche i monitoraggi per il suo impiego ti scarichi installi il programma il client che ti permetterà di navigare attraverso i nodi della rete tol con privacy garantita al suo avvio il programma cercherà i nodi disponibili e coinvolglierà il tuo traffico internet attraverso questa sequenza di nodi di server per la scelta invece dei servizi online effettua una semplice ricerca col tuo motore predefinito questo in quanto le liste dei proxy disponibili sono in continuo aggiornamento anche per evoluzione tecnologica oppure per censure varie e cambi di scelta delle aziende che magari prima fornivano un servizio poi hanno cambiato la loro politica nell'utilizzo di questi servizi dovrai semplicemente inserire in un campo in cui troverai verosimilmente nella pagina iniziale il tuo indirizzo url quindi il l'indirizzo del sito che vorrà navigare impiegando a questo punto il proxy fornito dal fornitore di servizio e avrai rindirizzato il tuo indirizzo p tramite il loro server molto semplice a questo punto direi nell'utilizzo ecco una lista minimale di servizi online da cui puoi attingere alla data in cui scrivo hide my s filter bypass e anony mouse accedendo a questi tre servizi potrai come detto inserire il tuo url e accedere al servizio proxy fornito infine se tu volessi invece impiegare le risorse interne al sistema operativo windows 10 potrai usufruire della sezione dedicata all'inserimento manuale di un server proxy quindi accederai alla sezione rete internet dal pannello delle impostazioni nella nuova pagina troverai alla sinistra una serie di sottosezioni e cliccando su proxy accederai alla sezione di configurazione dei proxy puoi trovare un cursore abilitato oppure eventualmente lo abilidi facendo sì che il sistema operativo possa rilevare autonomamente le impostazioni di eventuali proxy alternativamente potrai inserire i parametri manualmente quindi dovrai abilitare questa sezione questo cursore ed inserire all'interno di questi due campi l'indirizzo del server proxy e la porta per accedere a questo servizio dopodiché cliccando su salva potrai iniziare a navigare tramite questo server proxy nella sezione inferiore potrai anche scegliere di escludere la navigazione proxy per alcuni indirizzi specifici che vorrai inserire in questo campo o per eventuali reti intranet segnando questo segno di spunta ma che valore inserire sarà sufficiente come dicevo prima eseguire una ricerca per individuare la lista dei server proxy disponibili in base alle tue necessità del momento e compilare appunto questi due campi come detto in precedenza una lista degli indirizzi proxy per la configurazione manuale la puoi vedere da questi due link nordvpn e idemai potrai selezionare la nazione da cui vuoi simulare la tua navigazione ed eventualmente il protocollo otterrai l'indirizzo e la porta che dovrai inserire nei campi evidenziati in precedenza le opzioni variabili possono anche essere la scelta della velocità di risposta del server e anche la profondità quindi l'accuratezza della tua privacy del tuo anonimato ricorda che esistono serve gratuiti e da pagamento che però a via ragioni forniscono opzioni che possono tornarti utili in certe situazioni nella sottosezione delle impostazioni manuali avrai sicuramente notato la sezione relativa a uno script come detto gli script sono istruzioni programmi che permettono di eseguire delle operazioni automatizzate che in questo caso le operazioni automatizzate sono appunto quella di configurare una navigazione automatica tramite dei server proxy anche qui come potrai utilizzare dovrai trovare degli script che eseguano quella tua stessa funzione e se sei anche tu bravo o un programmatore potrai generarne uno e piazzare questo script su un server dopodiché dovrai semplicemente abilitare questo cursore ed inserire appunto l'url in indirizzo dove risiede questo script salvando il contenuto una volta impostato questo parametro a questo punto potrai iniziare a navigare e lo script configurerà autonomamente la navigazione tramite uno o più proxy termino notificando di un servizio che può tornarti utile fornito dal sito ip address punto com il quale ti permetterà di conoscere dove è localizzato un indirizzo ip e altri parametri così che nel cambio del tuo indirizzo potrai anche individuare qualora tu lo facessi in maniera automatica dove è localizzato questo proxy con il quale navicherai bene guter andiamo a vedere come navigare tramite proxy vai a selezionare rete ed internet e poi la sottosezione proxy a questo punto potresti trovare questo cursore già attivo rileva automaticamente le impostazioni tramite sistema operativo e provider di accesso ad internet per una navigazione proxy qualora tu vorrai potrai anche disattivarlo ed attivare eventualmente gli altri cursori questo è quello relativo agli script di configurazione quindi qui dovrai andare ad inserire l'indirizzo url dello script che eseguirà quella specifica funzione quindi dovrai svolgere una ricerca mirata per le tue necessità e successivamente salvare queste impostazioni oppure andare a configurare manualmente il proxy sarà sufficiente selezionare questo cursore attivando questi campi per poter inserire manualmente gli indirizzi per poter navigare tramite dei server proxy cosa dobbiamo fare sarà sufficiente andare su dei siti che ti mettono a disposizione liste di server proxy dalla configurazione del servizio potrai accedere a varie funzioni in questo caso potrai selezionare la nazione dove poter scegliere i proxy per poter navigare supponiamo di voler selezionare la confederazione russa andiamo a poi selezionare i tipi di protocolli che vorremmo scegliere ed eventualmente la profondità di anonimato dopodiché cliccando sul pulsante show mi darà una lista di potenziali server più o meno raggiungibili che ti permetteranno di evidenziare alcune caratteristiche come l'indirizzo ip la porta l'eventuale rapidità di risposta il protocollo e la profondità di anonimato in pratica i protocolli che abbiamo scelto prendiamo in considerazione il primo indirizzo ip quindi lo selezioniamo ci ricordiamo la porta 31 30 andiamo nella nostra sezione di impostazioni inseriamo l'indirizzo ip e la porta 31 30 qui potremmo anche inserire una lista di indirizzi da navigare senza far uso dei servizi proxy ed eventualmente se posso utilizzare una mia rete internet potrò scegliere di non navigare tramite proxy durante la consultazione e la navigazione all'interno della rete intranet vado a salvare questi parametri e la mia navigazione sarà indirizzata adesso a questo server proxy come posso fare una verifica all'inizio io ho questo indirizzo ip fornito dal sito what is my ip sarà sufficiente aggiornare la pagina e vedrò cambiare questo indirizzo ip ecco qui questo è il mio nuovo indirizzo quindi attualmente io starò navigando tramite questo server proxy per un'ulteriore verifica andrò a copiare questo indirizzo c'è un altro sito ip address.com che mi dà inizialmente i valori a cui ero connesso precedentemente vado ad inserire adesso questo indirizzo ip andrò a ricercare dove è geolocalizzato che a questo punto è la confederazione russa e quindi l'indirizzo che precedentemente avevo scelto da questa sezione quindi come puoi vedere è abbastanza semplice andare a configurare la tua navigazione tramite proxy ovviamente i servizi messi a disposizione possono variare con il tempo in base alle scelte di mercato torniamo a una navigazione senza proxy eliminando ovviamente questo parametro altra possibilità è utilizzare invece dei servizi web quindi questo è uno dei siti che ti permette di navigare tramite dei server proxy senza andare a configurare nulla manualmente sarà sufficiente inserire all'interno di questo campo il sito che vorrai consultare in questo caso metto quello di riferimento di questa guida adegudi.com potrai scegliere alcune opzioni messe a disposizione dai servizi cliccando sul pulsante surf andrò a navigare e consultare questo sito tramite il servizio filter bypass quindi di fatto io attualmente starò navigando dal mio computer verso il sito degudi.com quindi consultando questo sito passando tramite il server filter bypass quindi in pratica chi andrà a controllare il sito degudi.com non saprà l'indirizzo ip del mio pc e della mia rete perché questa pagina è raggiunta tramite il sito filter bypass.me come puoi vedere è abbastanza semplice manipolare la tua navigazione per garantirti un po' più di privacy rispetto a quella che è normalmente la tua normale navigazione bene nella prossima lezione nuove informazioni per windows 10 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da carlo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto